e allora buongiorno e allora cosa è successo è scoppiato un copertone fuori oddio qualcuno vada a controllare e allora buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti iscrivetevi a questo canale se non siete già iscritti devastate di like questo video guardatevi quelli già fatti guardate i video già fatti specialmente il commento alla partita di ieri e domani per abbonati base video analisi pronosti assistenza fante calci e oserei dire oserei dire che già la prima giornata ci siamo divertiti assai quindi non dico altro poi stasera sentiremo lo nostro doge lo doge serenissimo il viseosto per prepararci anche psicologicamente a fiorentina venezia oggi faccio un video su situazione fiorentina di bala roma e una pepita finale allora ieri poi siamo stati facili profeti perché palladino effettivamente si è presentato in conferenza a parlare di non solo ma anche di calciomercato le sue dichiarazioni sul calciomercato sono state quelle che hanno fatto più rumore diciamo così allora io parto da un presupposto ieri giocavi ripeto contro una squadra che valeva messa assieme 9 milioni di euro ieri con tutti gli uomini che hai a disposizione qualsiasi fosse stata o fosse la scelta scendevi in campo e in ciabatte gliene dovevi rifilare almeno tre non prendendone neanche uno guardando i valori sulla carta anzi vi dico la verità io all'impatto con le formazioni leggendole prima della partita ho anche detto ma un po più di sperimentazione si poteva anche fare tipo un barack ieri dall'inizio avrebbe potuto giocare per vedere qual era anche la resa in questo sistema no lui che è anche uomo di conference un fortini la butto lì un fortini lo potevi anche per dargli anche un premio visto l'ottimo precampionato che aveva fatto se era a disposizione lo potevi anche mettere questo per dire che poi nella se giudichiamo la partita di ieri il calciomercato avrebbe dovuto avere impatto zero perché anche un bel tram per esempio con tutti i limiti con tutte le situazioni con tutte le cose su cui poi torneremo visti gli avversari tutti avrebbero dovuto fare un figurone ok detto questo venendo quindi anche lì voglio dire di calciomercato mi sta bene se parla in certi ruoli ma soprattutto mi sta bene se ne parla il tifoso mi sta bene se ne parla la critica ma dopo la partita di ieri contro l'avversario di ieri secondo me il mister deve concentrarsi più su quello che non va a livello tattico e di assimilazione più che sul calciomercato poi venendo al calciomercato nello specifico ti lamenti tra virgolette perché non c'è una punta che possa sostituire che hanno anche con caratteristiche diverse da quelle che sono quelle di beltrane di che an cioè manca una prima punta strutturata che faccia da riferimento con il lavoro che anche nelle tue squadre hanno sempre fatto i vari diuris ma siamo qui a sfondare una porta da mesi spero che la partita di ieri sia stata emblematica da questo punto di vista che questo arrivo abbia scalato le gerarchie dell'urgenza perché pensare di fare una stagione da 50 60 partite con solamente che anne beltrane come chiavi nella punta è un grosso rischio è un grosso rischio e ti mancherebbero delle caratteristiche quindi li siamo d'accordissimo sul centrocampo parimenti sfondi una porta una porta aperta c'hai ragionissimo oggi siamo in tremendo ritardo sul reparto serve un regista serve forse anche più di un giocatore serve aggiungere fosforo serve aggiungere alternative serve aggiungere regia serve aggiungere praticamente tutto sui quinti non ti convince parisi e voi costi cioè vuoi vabbè ci può stare ci può stare possiamo inserire questo anche nel caglierone ma quello che a me preoccupa e anche qui sono stato facile profeta non più tardi di un mese fa quando vi dicevo occhio perché a me c'è una cosa che mi preoccupa della fiorentina di palladino che è la difesa la difesa a tre e ieri non mi si può dire che è un problema di uomini perché di chi hai bisogno per non prendere tre gol da questi qua di militao di bremer di rio ferdinand prime è chiaro che non è un problema di uomini o come quelli che citano mile se c'era milenkovic ieri in campo faceva ancora peggio faceva ancora peggio ok specie il milenkovic dell'anno scorso che sta facendo panchina in premier league ancora dietro a milenkovic siamo non è un problema di di giocatori che non ci sono non abbiamo giocatori io faccio notare anche una cosa lasciando stare la partizione di centro sinistra dove effettivamente per il ruolo di braccetto sinistro e dico braccetto no perché adesso è venuto fuori è venuto fuori anche capito la priorità per il ceto giornalistico sportivo italiano è il termine braccetto capito dio non si può dire braccetto cioè gente che non sa parlare in italiano che va in tv o scrive articoli narrazioni narrative leccaculismi ok notizie tutte da verificare ok ma il problema è il termine braccetto oddio non si può dire braccetto ma andate a cagare voi va bene e anche i braccetti perché la difesa 3 ha rotto i coglioni e io dico braccetto va bene braccetto braccio senti che bello braccetto braccetto quindi lasciando stare il braccetto di sinistra dove effettivamente oggi di ruolo i solo ranieri ma sul centro centrodestra c'è i quattro giocatori e c'è i pongracic per il quale hai speso 15 milioni di euro che voglio dire non è che li trovi per la strada ed è stato uno dei migliori interpreti in difesa a quattro l'anno scorso della scorsa serie a c'hai martinez quarta che è stato uno dei migliori giocatori della fiorentina dell'anno scorso e tutti a inizio estate festeggiavamo il suo rinnovo ok c'hai caiode che io mi aspetto che tu lo interpreti come braccetto di destra sia perché in conferenza hai detto che ti piacciono i giocatori duttili e caiode si presta a questa duttilità sia perché se non lo interpreti come braccetto caiode cosa finisce a fare la riserva di dodo lo facciamo giocare in conference contro le squadrette e deve fare l'alternativa a dodo io in testa il caiode dell'anno scorso e gradirei che il suo percorso di crescita continuasse e poi c'hai comuzzo che è un giovane che tu stesso apprezzi che non ha neanche fatto male all'esordio col parma e che può avere un profilo di emersione a mio avviso non hai un problema numerico tra l'altro ieri per esempio ha giocato pongracic che non giocherà con il venezia ha esordito in stagione ranieri che uno contro la puskas accademia può e deve lecitamente aspettarsi che un ranieri che l'anno scorso ha fatto una discretissima stagione contro il puskas accademia non abbia sofferenze faccia una partita di tutto riposo invece è andato in affanno pure lui quindi anche qui sul fatto di richiedere difensori sulla partizione di centro centro destra ma siamo sicuri che sia un problema di qualità degli uomini o anche di quantità degli uomini ieri io ho visto ho visto dei problemi difensivi che non riguardano la qualità degli uomini che amo in campo e neanche la quantità perché era gente che tre parti tre cioè di giocare ogni tre giorni te lo puoi aspettare l'abbiamo sempre fatto lo fanno tutti no dobbia essere l'unica squadra che cosa deve avere otto difensori centrali perché facciamo tre competizioni se palladino fa la champions quanti difensori chiede alla società in cui fa la champions 12 non ho capito per me invece è un problema di cambio di paradigma ok che palladino ha portato nuovi meccanismi di difesa a tre che vanno probabilmente assimilati o dio non voglia che vadano anche modificati perché anche qui si parlava io ho sentito palladino in conferenza stampa ad inizio anno nella presentazione dire che lui non è un fanatico degli schemi che lui non è uno che si che si fissa sugli schemi che uno anche che cambia l'anno scorso ci dicevano che il monza provava a fare anche difesa a quattro se anche simpaticamente prova a fare difesa a quattro se è vero che l'integralismo tattico è un qualcosa che apparteneva all'allenatore passato che con questo vedremo una capacità di adattarsi alle qualità dei giocatori della rosa che prima non vedevamo si può anche metterla in mostra questa cosa no si può anche metterla in mostra quindi sul fatto della difesa spezzo non spezzo una lancia a favore della società o meglio a favore dello status quo per quel che riguarda l'attacco perché lo capiva chiunque che avevamo e abbiamo bisogno di una prima punta alternativa che è sul centrocampo non mi spreco neanche più perché lo vede anche un bambino di cinque anni che siamo in affanno siamo in ritardo sul quinto se vuoi costi se parisi non ti convince se vuoi mettere uno lì confrontati con la società confrontati con il mercato come diceva il buon Renato Brunetta sulla difesa occhio per chi ho le difficoltà che stiamo vedendo e che abbiamo visto fin qui non le imputo agli uomini anche perché gli uomini quelli sono non puoi pensare che quarta rinnovato giustamente fortunatamente ad inizio estate possa essere messo in oscurità non puoi pensare che Pongracic pagato 15 milioni finisca al macero ci si può aspettare che due giovani come Caiode e Comuzzo in una fiorentina che deve anche fare valorizzazione che deve mettere in mostra dei suoi talenti possano trovare spazio quindi sulla difesa io purtroppo eccettuato il discorso del braccetto di centro sinistra dove un rinforzo può sicuramente aiutare e servire ma se guardo l'altra partizione quella di centro e centro destra e allargo il discorso a tutta la squadra penso che ci siano problemi di assimilazione tattica che riguardano il nuovo modo di giocare della squadra che riguardano il nuovo modo di difendere della squadra che probabilmente non è neanche l'ideale sia per il trascorso che tanti giocatori hanno avuto con il mister precedente con il modo di difendere che avevamo prima sia per quelli che sono che sono i nuovi compiti detto questo sugli altri reparti rimando al video di ieri perché sicuramente serve però in difesa io mi aspetto anche che palladino inizi a dare delle gerarchie che lavori sui singoli che lavori sull'interpretazione dei singoli sull'adeguamento dei singoli con pazienza con chiarezza con gerarchie non vedo una una difesa che ha problemi né qualitativi ok in quelli che sono gli interpreti principali né ne oserei dire tutto sommato neanche numerici poi se arriva se arriva un difensore in più vedremo però io credo che molto debba passare dalla mano dell'allenatore molto debba passare dalla mano dell'allenatore e onestamente sentire il mio allenatore che dopo che pareggia 3 a 3 in casa contro il puskas accademia a parlare di calcio mercato io lo posso capire perché è vero che ci sono dei ritardi di calcio mercato ma non è che per non prendere gol da questi o per vincere una partita contro il puskas accademia ti debba servire il real madrid di carletto ancelotti è cioè parliamoci chiaro ieri adesso noi ci fa anche comodo fa comodo al mister e fa comodo a noi puntare l'attenzione sul calcio mercato perché abbiamo in previsione davanti una stagione che non puoi assolutamente affrontare con gli interpreti che hai a centro campo o con la punta che non hai davanti se manca che hanno ok però ieri era una partita che anche quelli che sono andati in campo se la situazione tecnico tattica fosse stata più chiara più oliata con un approccio migliore alla partita con più determinazione ieri era una partita che non dovevi avere problemi a vincere anche qui ritorno sul discorso della malleabilità tattica dell'io non sono un un integralista che poi quelli che ce l'avevano con italiano quando ha detto ste cose subito ne hanno approfittato per dire ah ecco vedi adesso non abbiamo più un mister inter ecco se il mister non è integralista mi spieghi il senso di andare in campo con tre difensori centrali contro una squadra che vale 9 milioni di euro ieri per esempio una difesa a quattro abbia fatto schifo chiedo è un 4 2 3 1 di 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 raccordo che ti faceva anche capire alla seconda partita guarda che io comunque sono aperto a utilizzare altre situazioni c'è comunque un'alternativa di schema che può andare avanti che può viaggiare in parallelo faceva no devi scendere con tre difensori centrali contro una squadra che vale 9 milioni messa assieme è la la duttilità tattica poi sul calcio mercato ripeto all'ottanta per cento delle cose che ha detto c'ha ragione perché viviamo una situazione di ritardo in tante partizioni specialmente centrocampo attacco in difesa sono un po più cauto perché non credo che i problemi che noi abbiamo dipendano dal fatto che non siano arrivati o siano arrivati dei difensori questo io dico poi ditemi anche la vostra nei commenti vengo al discorso roma vengo al discorso roma perché male male questo discorso della roma e di dibala che resta ha vinto ha vinto il populismo secondo me ha vinto anche un po il sensazionalismo allora intanto bisogna vedere se dibala resta perché ha rifiutato lui l'offerta o perché la squadra araba alla roma dava pochi soldi affinché sto a fare fosse poi concluso o se tutte e due le cose bisogna vedere perché poi ovviamente ci hanno dato la gran cassa però io mi limito ad un discorso tecnico tattico e tu con la permanenza di dibala le cui qualità per carità non si discutono sono presenti ma tu rischi di sacrificare uno tra lui e sule cioè rischi di veder fare a sule sostanzialmente quando gioca dibala il crossatore dall'altra parte con anche oltretutto gravi questioni su altri ruoli che indipendentemente da dibala la roma doveva fare e anzi con la permanenza di dibala rischi di avere più difficoltà a fare rischi di avere ancora più fumo nella settimana che ti separa dalla fine del mercato che cosa la roma ha un tremendo bisogno di un terzino forte forte d'assalto di qualità sulla partizione del terzino destro hai bisogno di un mediano perché non puoi pensare che cristante parede sfacciano 60 65 partite e c'hai bisogno di un esterno sinistro di piede destro perché altrimenti oggi ti riduci a giocare con dibala quando gioca quando in forma quando è al pieno e quando gioca e con sule a fare i cross dall'altra parte a piede naturale che non è cosa ok questo era un qualcosa che tu dovevi conteggiare se andava via dibala ma anche se dibala resta e non beneficerai nemmeno della chiarezza tattica del fatto che va via dibala allora almeno ciò sulena il suo ruolo e sono a posto e sono a posto con le situazioni tecnico tattiche non benefici nemmeno rimanendo lui del risparmio sullo stipendio per fare bene gli altri ruoli ok poi oltretutto questa permanenza rischi anche di contraddire a livello tattico il tuo tecnico e mi viene anche da dire una cosa adesso si parla di danzo per chi mi conosce sa che io danzo lo amo è fortissimo giocatore che che proprio mi fa impazzire difensivamente ma che senso ha spendere 25 milioni su danzo quando hai mancini indica li spendo se faccio difesa 3 allora mi fai difesa 3 con mancini braccetto di centrodestra danzo al centro indica centrosinistra c'hai una delle migliori difese in italia titolare ma non mi sembra che la roma voglia fare non mi sembra che derossi voglia fare difesa a 3 no mi vai a spendere 25 milioni per un giocatore che o sta in panchina o deve panchinare uno tra mancini indica che ditemi il senso e poi magari in questi tre ruoli che vi ho detto prima fai scelte a metà o prendi boga o ti fai dare correa dalla roma o non prendi il mediano cioè per adesso mi sembra un mercato un po incerto e confusionario è poi io a derossi auguro il meglio per carità di dio mi sta simpatico gli voglio bene e tutto però mi sembra un mercato un po incerto un po confusionario con poco anche coraggio di andare a fare la scelta finale anche se è impopolare anche se può scatenare problemi fino in fondo poi vedremo in questa settimana cosa sarà fatto chiudo con il como ok me lo consentirete ma lo faccio solo oggi perché il como ha preso maximo perrone in prestito dal city con contro riscatto a favore dal city se non sbaglio perrone per chi è amante del fare mercato cattiano era un centrocampista che io avevo consigliato alla fiorentina per fare per fare regia dinamica no per fare regia dinamica questo anche era un giocatore che poteva essere interessante andare a prendere e lo vedremo in azione col como e vedremo quello che sarà il suo bel rendere vedremo quello che sarà il suo bel rendere di maximo perrone giocatore molto importante anche a livello di situazione argentina da valutare da valutare a proposito di argentina vedremo anche l'evoluzione che avrà la vicenda nico gonzalez io a questo punto ceccherei di non fare troppo la bocca esigente perché abbiamo esigenze se il mister vuole kostic e hai bisogno di artur anche perché artur ha il pregio di conoscere già molti interpreti che fanno parte della fiorentina di conoscere l'ambiente ha fatto anche bene l'anno scorso fatti dare kostic artur ok ti fai dare il malloppo seguente e almeno due pedine una che è venuta fuori dopo perché magari al mister parisi non convince o vuole avere kostic così ma almeno un centrocampista di valore tecnico di utilità di visione di impostazione te lo porti a casa ok almeno tamponi questa esigenza perché noi adesso siamo a venerdì 23 che ci presentiamo nella stessa situazione di centrocampo praticamente che avevamo a parma che già era un qualcosa che destava preoccupazione che destava una che denotava una situazione di ritardo e di problematicità e di problematicità poi aspetto anche la vostra sulla situazione che stiamo vivendo chi vi sta dando più preoccupazione se vi volete sfogare cosa vi cosa vi perplime qual è la via anche per uscirne dal punto di vista della fiorentina ne possiamo ne possiamo anche parlare assieme io dico questo ripeto va bene al mercato sono il primo a dirlo spero che la partita di beltran ieri faccia non perché è scarso non perché non va ma perché non è il suo pane quotidiano quello di fare la punta non è una punta secondo me non ha le caratteristiche che ci servono per fare l'alternativa che è con efficacia ok e quindi spero che questo abbia fatto recepire l'esigenza di una punta centrocampo siamo in alto mare si è creata anche sta situazione sul quinto che andrà vista però ditemi la vostra insomma ciao ciao